Ave Maria, ti invitiamo a partecipare alla campagna Una Rosa per Nostra Signora, una rosa per Maria Santissima. Vogliamo raccogliere migliaia di rose per la Madonna, in riparazione dei peccati. Vogliamo raccogliere migliaia di rose da oggi, 13 aprile, fino al 13 maggio, giorno del nostro Terzo Rosario Mondiale. Ogni rosa rappresenta un'Ave Maria, come penitenza in riparazione dei peccati del mondo e per la santificazione della Chiesa. Basta seguire i passi. Primo, scatta un selfie di te stesso con una rosa. Secondo, compila il modulo della campagna Una Rosa per Nostra Signora, con il tuo nome completo, il tuo indirizzo mail e la tua foto. Condivideremo le foto sul nostro sito web, sui nostri social e metteremo fisicamente la tua rosa sull'altare il giorno del Rosario Mondiale, il prossimo 13 maggio. Aiutaci ad elevare migliaia di Ave Maria di riparazione. Ogni Ave Maria è una rosa profumata che noi doniamo alla nostra Mamma Cileste ed ogni rosario noi facciamo una dichiarazione d'amore alla nostra Mamma. Totus Tus Maria. Ave Maria.